Si avvicina l'appuntamento con la sedicesima edizione di Remtech Expo in programma come ogni anno a Ferrara Fiere dal 21 al 23 settembre. L'evento verrà presentato il prossimo 13 settembre a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi. Si tratta dell'appuntamento internazionale dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. Non solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, è soprattutto una rete di esperti di livello globale ed un vero e proprio hub tecnologico ambientale che opera in forma permanente in cui il comparto pubblico e il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva, concreta ed efficace. Apriranno la Remtech Week il 21 settembre gli stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori, dal risanamento alla rigenerazione, il futuro del pianeta Terra e a seguire gli stati generali delle regioni per la transizione ecologica, l'organizzazione evoluta, la valorizzazione dei virtuosismi e la prossimità con i territori. Occasioni di confronto ampio e fattivo sui temi del presente e del futuro del pianeta e dell'uomo. Alla presentazione gli interventi introduttivi di Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, Silvia Paparella, amministratore delegato Ferrara Expo e general manager Remtech Expo Hub Tecnologico Ambientale e Francesco Arcangelo Violo, presidente Consiglio Nazionale dei Geologi.